È un aumento che dura da mesi, è un aumento del quale non si vede la fine. Il caro carburanti continua a stringere il suo cappio attorno al collo degli autotrasportatori, dei cittadini comuni che utilizzano la macchina, ma rischia di paralizzare tanti settori economici. Come detto, quello dei camionisti, quello dei rappresentanti, quello di tante categorie che utilizzano i mezzi di trasporto con frequenza. Oggi, ad esempio, siamo al Road Drink, stabilimento che eroga anche metano in strada del Montefeltro. Non vedete il prezzo scritto nel pannello del metano, ma effettivamente si tratta di 4,99 euro. Si sfiorano i 5 euro al chilo. Venne tenuta una sola pompa attiva per erogare un servizio, ma molti rinunciano, visto un quantitativo di prezzo davvero proibitivo. Non è differente la situazione per quello che riguarda benzina e gasolio. Gasolio che supra i 2,10 euro, benzina che sfiora i 2,20 euro. E' così qui e così in tanti luoghi della città e gli aumenti, a quanto pare, non sono destinati a terminare. Ed è una situazione che ha pochi distinguo in città, cambiando zona, stessi prezzi, centesimo più centesimo meno, stessa difficoltà nel rapportarsi ad una situazione che ha davvero pochi precedenti. Io sono 24 anni che faccio questo tipo di attività, non ho mai assistito a una cosa del genere, ma penso che ci siano eventi inspiegabili, impensabili. Di conseguenza non ho un'idea di quale sia il domani. Noi abbiamo il nostro dovere di esporre i prezzi ogni giorno che ci comunicano dall'interno della compagnia o chiunque sia il prezzo. E automaticamente alle nostre condizioni di due centesimi al litro siamo costretti ad aumentarlo per forza. Non riusciamo altrimenti a superire al pagamento delle fatture. Per forza di cose dobbiamo pagare, aumentare quello che è. La problematica è chiara per l'utenza, ma non è da meno per i gestori. Per noi gestori, in base alle vendite, ma le vendite è un gatto che si morde la coda. È semplicissimo, nessuno più utilizza il mezzo giustamente per scopi che non servono. Il camionista invece è costretto pur di lavorare, di dover pagare, ma noi non sappiamo come poter aiutare perché il prezzo viene imposto dallo Stato, dalle compagnie e da tutto il resto. Quindi il problema si riflette direttamente sull'utente, sul consumatore.